Emanguele Berardi è il figlio di Barbara D'Urso, ma cosa sappiamo del giovane ragazzo? Ecco tutto quello che c'è da conoscere Foto, conoscete Emanguele Berardi, il figlio di Barbara D'Urso? Barbara D'Urso, conduttrice media set nota per programmi come Live, Nonela D'Urso e Domenica Live che non rivedremo nei palinsesti della prossima stagione dell'Ammiraglia del Biscione Ha due figli, Gian Mauro ed Emanguele Berardi, nati dall'amore con il produttore cinematografico Mauro Berardi Lei li custodisce ben lontani dalle telecamere ma, nonostante questo, Emanguele non perdi occasione per far parlare di sé Conosciamolo meglio insieme Leggi anche, Simona Ventura, in pessimi rapporti con Barbara D'Urso, lavora con suo figlio Emanguele, di cosa si tratta? Chi è Emanguele Berardi, il figlio di Barbara D'Urso? Età Emanguele Berardi, figlio di Barbara D'Urso, è nato nel 1988 Ha 33 anni Fidanzata Emanguele Berardi ha una fidanzata? Tutto quel che si sa della sua vita sentimentale è che il giovane sia stato legato per qualche tempo alla modella di origine polacca Andrea Letosca, che proprio mamma Barbara gli aveva fatto incontrare La relazione tra i due, però, entrò in crisi durante la partecipazione di lei all'Isola dei Famosi Nove in particolare, nella coppia avrebbe creato tensioni il rapporto di complicità tra la Letosca e il bellissimo modello brasiliano Givago Santini, oggi grande amico di Emanguele Gli ultimi rumors su una possibile fidanzata di Berardi riguardano una cantante famosa che conta numerose partecipazioni al Festival di San Reno Di chi stiamo parlando? Andrea Lozca, ex fidanzata di Emanuele Berardi, figlio della D'Urso Bianca Azzai Emanuele sarebbe stato legato anche alla cantante Bianca Azzai Era il 2019 quando i due hanno cominciato a essere paparazzati insieme in atteggiamenti sempre più intimi che hanno dato vita a un gossip, forse nato sul siti e le riviste di Cronaca Rosa L'indiscrezione era uscita sul settimanale nuovo. Quel che è certo è che ad oggi l'eventuale flert si è giunto al capolinea ormai da tempo visto che la cantante è fidanzatissima con la Iena Stefano Corti Emanuele Berardi ha avuto una storia con la cantante Bianca Azzai? Emanuele Berardi, figlio di Barbara D'Urso, che lavoro fa? Emanuele Berardi, figlio di Barbara D'Urso, è un fotografo e videomaker professionista Lavoro che lo porta spesso in giro per il mondo. Simona Ventura, figlio di Barbara D'Urso, ha all'orizzonte una nuova avventura lavorativa che riguarda un nome importantissimo della tv italiana Il nostro sarà infatti tra i produttori della seconda edizione del programma Discovering Simo un'onda su Real Time Tra l'avventura e mamma Barbara non scorre certo buon sangue ma questo non ha affermato Emanuele che fa parte della giovane casa di produzione Addictiva Ideas, ideatrice e sviluppatrice dello show di Super Simo Instagram Emanuele Berardi, figlio di Barbara D'Urso, è seguitissimo su Instagram dove conta 29.000 follower Apprezzatissimi post che riguardano la sua attività lavorativa di videomaker e fotografo che Berardi posta senza posa sul suo profilo mantenendo un'estrema riservatezza invece sulla propria vita privata Qui il suo profilo Ci vediamo nei prossimi video, ciao!